Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina politica perché il presidente della regione Donato Toma ci ha ripensato e ha rinviato a settembre ogni decisione sull'eventuale rimpasto della giunta e sul caso Mazzuto intanto la crisi nella maggioranza di centrodestra si accentua e paralizza le istituzioni mentre lavoratori e sindacati chiedono soluzioni urgenti per fronteggiare le tante emergenze del Molise in apertura Giovanni Minicozzi Dopo quanto accaduto venerdì scorso in consiglio regionale doveva essere la settimana decisiva per tentare di risolvere la crisi politica che ha investito la maggioranza di centrodestra alla regione o al Mino così era stato annunciato invece Donato Toma ci ripensa, prende tempo e rinvia tutto a dopo l'estate il governatore lo ha dichiarato in una intervista rilasciata a primo piano Molise nella quale tra l'altro ha messo sotto tiro i consiglieri ribelli del centrodestra con in testa l'ex governatore Michele Iorio nel frattempo il presidente gestirà insieme al leader della Lega Matteo Salvini il caso Mazzuto che intanto resta al suo posto di assessore esterno al lavoro e alle politiche sociali naturalmente ogni decisione sull'eventuale rimpasto dell'esecutivo o sulla sostituzione di qualche assessore è di competenza esclusiva del presidente e spetta a lui decidere come e quando farlo dunque a meno di ulteriori ripensamenti il tutto è rinviato a settembre ma risulta evidente che le istituzioni consiglio e giunta regionale sono e restano paralizzate per alcuni mesi la litigiosità la contrapposizione interna alla maggioranza l'assenza di proposte concrete il persistente e inutile braccio di ferro tra il governatore e il commissario alla sanità Angelo Giustini non promettono nulla di buono risulta anche paradossale che una maggioranza a distanza di poco più di un anno dalla schiacciante vittoria alle regionali non riesca a trovare il giusto equilibrio al suo interno da Michele Iorio a Ida Romagnolo da Filomena Calenda a Andrea Dilucente e per alcuni aspetti allo stesso Vincenzo Niro per non parlare di Massimiliano Scarabbeo sono troppi i malpangisti che evidentemente non hanno gradito le scelte del presidente nel comporre l'esecutivo né i provvedimenti fin qui messi in campo per fronteggiare le tante emergenze che stanno divorando il Molise non a caso fuori dai palazzi della politica c'è una regione che soffre le pene dell'inferno tra crisi produttive, disoccupazione, spopolamento fuga in massa dei giovani senza lavoro servizi non garantiti a partire dalla sanità viabilità indecente e indice di povertà mai toccato prima di adesso questi drammatici problemi non possono attendere i tempi lunghi della politica né le beghe interne di una maggioranza sempre più sfilacciata o meglio di una maggioranza traballante con alcuni consiglieri regionali eletti nel centro-destra pronti a cambiare casacca con la speranza di conquistare una poltrona più comoda una maggioranza che dimostra sempre di più la sua inadeguatezza per affrontare le drammatiche emergenze del Molise Andiamo a Termoli perché il punto nascita può riaprire il TAR ha concesso la sospensiva contro il decreto di Giustini in attesa di entrare nel merito nell'udienza prevista il prossimo 24 luglio una grande vittoria il commento di tutti intanto ieri sera c'era stata una fiaccolata silenziosa davanti all'ospedale tra commozione e speranze sentiamo Manuela Iorio Il Tarmolisi ha concesso la sospensiva accogliendo la richiesta cautelare contro il decreto di chiusura del punto nascita del Santimotio di Termoli un risultato straordinario questa sospensiva ripristina il diritto alla salute ha commentato a caldo l'avvocato Massimo Romano che insieme al collega Vincenzo Iacovino ha avuto l'incarico di impugnare il provvedimento del commissario Giustini da parte di 13 comuni e 20 donne in gravidanza l'annuncio su Facebook lo ha dato il sindaco di Termoli Francesco Roberti che ha dichiarato guardiamo con speranza quando si entrerà nel merito non possiamo chiudere il punto nascita del nostro ospedale continuiamo a rimanere uniti e manifestiamo per una giusta causa ora ci attese infatti per l'udienza collegiale del 24 luglio quando i giudici entreranno nel merito e si conoscerà il destino del punto nascita intanto da stamattina il telefono del reparto è stato preso d'assalto da donne a cui manca poco per partorire e che vogliono farlo a Termoli si riaccendono così le speranze per tante di loro compresa Romina una mamma arrivata al termine della sua quarta gravidanza e che ieri nell'ultimo giorno di apertura del punto nascita era stata costretta a dimettersi contro la sua volontà e proprio ieri sera due ore prima della chiusura ufficiale del punto nascita il gruppo Voglio Nascere a Termoli ha organizzato in pochissimo tempo e con un veloce tam tam su Facebook una fiaccolata silenziosa di fronte all'ospedale nonostante il poco preavviso e l'orario dalle 22 alle 24 diverse famiglie hanno risposto all'appello tanti bimbi arrivati insieme ai genitori proprio loro così piccoli e indifesi con una candela in mano sono l'immagine più bella e più ricca di speranza in una serata segnata anche dalla tristezza e dalla commozione L'antecipazione è molto sentita perché è un grave lutto, una grave perdita per Termoli siamo tutti termolesi e veramente abbiamo una tristezza nel cuore Lei perché ha sentito il bisogno di venire qui questa sera? Io non ho figlie femmine, premetto però mi sento defraudata di un diritto di qualcosa per il futuro di tutta Termoli Ho due figli, nati tutti e due a Termoli uno nel 2013 e uno nel 2016 ringrazio il dottor Molinari che mi ha seguito per entrambe le gravidanze ringrazio tutto il personale perché sono stata coccolata durante la mia breve permanenza dei due o tre giorni presso questa struttura rifarei tutto quello che ho fatto È un brutto momento perché manca poco e non sappiamo dove andare ovviamente Stasera sei venuta qui alla fiaccolata? Sì, con tutti i bimbi Lui è un altro, lui è il secondo e lei la terza Nati a Termoli ovviamente, questo non lo sappiamo Partoriamo in casa, torniamo ai periodi delle nonne In previsione c'è una manifestazione il 21, ci stiamo lavorando stiamo cercando di organizzare qualcosa di abbastanza grande, ben definito speriamo che la popolazione compatibilmente con gli impegni soprattutto le donne incinte perché capiamo che comunque loro sono in difficoltà rispondano numerosi e come avete visto noi continuiamo ad andare avanti non ci fermiamo e proseguiremo per la nostra strada Quanto è importante partecipare? Tantissimo, più siamo meglio è e questa è una cosa che riguarda tutti non riguarda solo le donne in gravidanza ma coinvolge tutta la popolazione anche perché pensiamo che questo sia solo una punta dell'iceberg la nostra paura più grande è che si parta da questo per poi procedere ad altro è un lusso che non ci possiamo assolutamente permettere Ora il Tar riaccende le speranze l'importante è non mollare e crederci fino in fondo E sulla sospensiva del Tar Molise è intervenuta anche Aida Romagnolo, consigliere regionale del Molise è la vittoria dei cittadini e la sconfitta del governo nazionale ha detto trovo a questo punto doveroso riconfermare tutto il mio impegno e tutta la mia disponibilità per continuare a lottare e stare vicino a tutti i cittadini del Basso Molise affinché non ci venga più negato il sacrosanto diritto alla salute e non venga soppresso né il punto nascita né altri servizi all'ospedale di Termoli se continueremo a fare squadra tutti insieme ha concluso Aida Romagnolo sono certa che anche il governo nazionale dovrà rivedere i parametri del decreto Balduzzi il male di tutti i mali della sanità molisana E intanto nel pomeriggio di oggi il punto nascita del Santimoteo è stato riaperto al pronto soccorso ora si accettano i ricoveri e dunque almeno fino al 24 luglio giorno in cui il Tar entrerà nel merito a Termoli nasceranno bambini il reparto si sta riorganizzando con i turni ma resta il forte problema del personale se l'ASREM non manderà rinforzi le criticità aumenteranno Andiamo ora all'ospedale di Venafro dove apre la RSA si tratta di una struttura in pronta sanitaria destinata a ospitare per un periodo di tempo variabile persone non autosufficienti venerdì l'inaugurazione all'evento prenderanno parte i vertici dell'ASREM Molise il comitato Santissimo Rosario il servizio è di Enzo Di Gaetano 15 posti letto la nuova residenza sanitaria assistenziale che venerdì 12 luglio verrà inaugurata presso l'ospedale Venafrano all'evento prenderanno parte i vertici dell'ASREM e il comitato Santissimo Rosario l'immobile sede dell'ospedale è stato sottoposto a un importante intervento di restyling che ha modificato radicalmente la struttura originaria del reparto di medicina la residenza sanitaria assistenziale è una struttura non ospedaliera ma comunque è in pronta sanitaria che ospiterà per un periodo variabile da poche settimane fino al tempo indeterminato persone non autosufficienti che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche la RSA deve offrire agli ospiti una sistemazione residenziale con un'impronta il più possibile domestica stimolando al tempo stesso la socializzazione tra gli ospiti insieme a tutti gli interventi medici, infermeristici e riabilitativi necessari a prevenire e curare le malattie croniche e le loro eventuali riacutizzazioni con un'assistenza individualizzata il responsabile sanitario della struttura che ha compiti di coordinamento è il medico di medicina generale che assicura l'assistenza ci sono poi gli infermieri professionali l'assistente domiciliare dei servizi tutelari per l'assistenza alla persona ci possono essere fisioterapisti terapisti occupazionali e animatori altre figure professionali sanitarie fisiatra, geriatra, psicologo possono essere messe a disposizione dall'ASREM così mentre altri ospedali si lamentano per le chiusure di alcuni importanti reparti un barlume di luce appare a Venafro grazie all'impegno del Comitato Santissimo Rosario con la prima RSA regionale a entrare in funzione vista la complessità di questa realtà e le carenze negli organici ASREM diventerà importante trovare il personale socio-sanitario adatto un'opzione potrebbe essere quella di affidarsi all'esternalizzazione una scelta che potrebbe garantire vantaggi in termini economici e organizzativi vittima un giovane molisano in un tragico incidente stradale a Roma ieri mattina in via Ettore Romagnoli nel quartiere Nomentano Roberto Tagliaferri nato 32 anni fa Ferrazzano è morto dopo essersi scontrato alla guida della sua moto con un'auto guidata da una ragazza di 22 anni le cause che hanno provocato la carambola mortale sono ancora in via di accertamento Tagliaferri è morto sul colpo e ora parliamo della scomparsa di Domenico Fratianni noto pittore molisano morto la scorsa notte all'età di 81 anni all'ospedale di Matera dove era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 22 giugno Fratianni era stato colpito da malore nel corso dell'inaugurazione della sua mostra le voci dentro allestita proprio a Matera città europea della cultura la notizia della sua morte ha lasciato sgomenti e addolorati tanti numerosissimi in queste ore i messaggi di cordoglio per la gravissima perdita per l'arte e la cultura molisana da parte di tutte le forze politiche da parte dei rappresentanti istituzionali e sociali della regione molise i funerali si svolgeranno domani a Campobasso alle 16.30 nella chiesa di Sant'Antonio da Padova intanto il ricordo di Domenico Fratianni in questo servizio di Anna Maria Di Matteo Il Molise Piange è uno dei suoi artisti più rappresentativi Domenico Fratianni, 81 anni è morto all'ospedale di Matera dove era ricoverato dallo scorso 22 giugno in seguito ad un malore si trovava nella città europea della cultura 2019 per l'inaugurazione al circolo la scaletta della sua mostra Le voci dentro chi lo conosceva racconta dell'entusiasmo dell'emozione per l'importante appuntamento al quale si era preparato da mesi era orgoglioso di aver avuto la possibilità di esporre le sue opere a Matera città al centro dell'Europa per il 2019 per gli eventi culturali e Fratianni era riuscita a ricavarsi uno spazio all'interno di una vetrina così importante il malore mentre stava presenziando la cerimonia inaugurale la corsa in ospedale e il ricovero al reparto di terapia intensiva ma per il maestro così come lo chiamavano affettuosamente tutti a Campobasso non c'è stato nulla da fare si è spento dopo due settimane la notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in città lasciando tutti i sgomenti addolorati pittore, incisore, disegnatore dal 2000 Fratianni era direttore artistico della Biennale dell'Incisione Italiana Contemporanea di Campobasso con le sue opere aveva portato il Molise fuori dai confini regionali era sempre in prima linea quando si trattava di promuovere l'arte sotto tutte le sue sfaccettature persona raffinata, sempre affabile alla mano la si vedeva spesso passeggiare lungo il corso con gli amici di sempre e per tutti c'era un sorriso, una stretta di mano un galantuomo come l'hanno definito in tanti la sua scomparsa lascia un vuoto in città e nel mondo dell'arte e della cultura molisana e oggi sono in tanti a piangerlo Voltiamo pagina e parliamo dei parcheggi a pagamento a Isernia si è raggiunto l'accordo con la società le soste blu saranno solo 40 in eccedenza ora si attende l'ordinanza del sindaco per riattivare il servizio ma il comitato nostrisce blu si rivolge all'ANAC di Cantone sostenendo che l'appalto andava ripetuto nuovamente il servizio è ancora di Enzo Di Gaetano Alla fine ha prevalso l'ipotesi del 5% il comune di Isernia ha così concluso il processo di transazione con la società esterna che dovrà occuparsi di gestire parcheggi a pagamento saranno 867 in totale le soste blu 40 in più delle 827 stabilite in principio dal Consiglio Comunale una mediazione necessaria all'indomani della differenza emersa tra quanto deciso dal Consiglio e il bando di gara sbagliato che prevedeva circa 150 parcheggi a pagamento in più ora si attende l'ordinanza del sindaco per riattivare il servizio sospeso oramai da marzo ma dopo la firma dell'ordinanza ci sarà ancora un periodo neutro perché dovranno, a spese della ditta essere ridisegnati tutti gli stalli e cancellati quelli fatti in più 6 le persone che saranno assunte per rilevare le infrazioni intanto nella deliberazione di giunta è stata resa nota la nuova mappa ecco dunque dove saranno collocati gli 867 stalli a pagamento cominciamo con Largo Cappuccini dove sono 32 le soste blu 50 in via occidentale Piazza Andrea di Sernia e Corso Marcelli 108 in piazza Tedeschi Corso Garibaldi e via Enrico di Sernia 18 in via Enrico De Nicola 31 in via De Gasperi 22 in via Farinacci 71 in via Berta 78 in piazza della Repubblica Corso Garibaldi 96 in via Umbria 57 in via Molissi e via Lazio 107 su corso di sorgimento 63 via 24 Maggio via Gorizia e via Petrarca 9 in via Giovanni XXIII e 15 in via Erenio Ponzio infine 75 soste blu nel parcheggio coperto dell'auditorium e 35 in quello sempre coperto di via Berta inoltre la società si è impegnata a istituire un ticket di cortesia di 10 minuti che consente per una sola volta al giorno di fruire della sosta negli stalli a pagamento senza costi a carico dell'utente della questione strisce blu si tornerà a parlare nel prossimo Consiglio Comunale previsto per giovedì prossimo intanto il Comitato Cittadino Nostrisce Blu ha preannunciato attraverso il suo legale Oreste Scurti il ricorso alla Corte dei Conti alla Procura e all'autorità nazionale anticorruzione di Raffaele Cantone perché l'appalto avrebbe dovuto essere rifatto da capo dopo l'emersione delle irregolarità per il Comitato non si può aggiustare in corsa un avviso pubblico da milioni di euro In Italia ci sono 12 milare potenzialmente contaminate di queste 61 sono in Molise a lanciare l'allarme il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vittorio Nola che insieme ai colleghi del Movimento ha presentato una nuova interrogazione al Presidente della Regione e all'assessore competente per conoscere quale sia la reale funzione Sentiamo ancora Anna Maria Di Matteo C'è anche il Molise nella mappa delle regioni italiane in cui esistono aree a rischio sanitario con siti potenzialmente contaminati Secondo il censimento eseguito dall'ISPRA l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in Italia le aree sono oltre 12 mila ben 61 si trovano nel Molise A ricordarlo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vittorio Nola che ha anche sottolineato come per 32 siti contaminati il procedimento di bonifica sia stato chiuso e per 29 invece il procedimento risulta ancora aperto al 3 dicembre 2015 A quell'anno risalgono gli ultimi dati utili sui siti contaminati del Molise come riportano gli allegati al piano regionale per la gestione dei rifiuti scaduto ormai da mesi ha ricordato il consigliere che ha stilato l'elenco delle aree maggiormente a rischio la piana di Venafro, la discarica di Tufo Colonoco Colle d'Anchise, Montagano l'area di Capoiaccio in territorio di Cerce Maggiore la zona che insiste sul sito di interesse regionale di Guglionesi e quella ridosso del depuratore di Termoli ma la questione ambientale in Molise abbraccia diversi aspetti ha spiegato Nola il piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato dal consiglio regionale nel 2016 è scaduto da 4 anni non risulta traccia di alcuna revisione da parte delle strutture competenti così come manca una mappatura aggiornata sui siti contaminati ha ricordato il consigliere secondo il quale è indispensabile che la regione si doti di un piano per la gestione delle discariche su questi temi il gruppo in consiglio regionale ha presentato una nuova interrogazione al presidente della regione Toma e all'assessore all'ambiente Cavaliere per conoscere i siti ad oggi contaminati e gli interventi adottati per bonificare le aree con l'interrogazione i 5 Stelle chiedono anche di sapere se l'assessorato stia lavorando la revisione del piano regionale di gestione dei rifiuti ormai scaduto e quando arriverà l'attenzione del consiglio la regione non può permettersi ritardi e silenzi perché un'amministrazione che tentenna sui temi della salute pubblica e sulla sicurezza ambientale non rispetta i diritti dei propri cittadini ha concluso Nola a dieci anni dalla morte in Afghanistan del paramolisano Alessandro di Lisio il 13 luglio si svolgerà la cerimonia di intitolazione del giardino in via Ugo Petrella dove sarà anche scoperto il monumento eretto in Afghanistan dai suoi commilitoni e riportato in Italia al rientro della missione alla cerimonia prevista per le 10 parteciperà anche il ministro della difesa Elisabetta Trenta cambiamo argomento i carabinieri di Montenero di Bisaccia e Petacciato hanno sventato un furto a Montenero la pattuglia ha notato la presenza di un trattore di grandi dimensioni con agganciato un carrello e su questo carrello un trattore a cingoli in uno spiazzo isolato nelle campagne di Montenero il controllo ha consentito di risalire al proprietario del mezzo titolare di un'azienda agricola a Petacciato che ha riconosciuto il proprio mezzo una volta giunto sul posto il valore commerciale di quanto sottratto all'uomo ammontava circa 200 mila euro tutti i beni sottratti sono stati restituiti al titolare dell'azienda presto la protezione civile sarà insegnata anche a scuola si è parlato di questa novità durante il campo scuola organizzato ad Agnone dai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri e c'era per noi Sergio Di Vincenzo chiude con un bilancio davvero confortante il campo della protezione civile riservato ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni organizzato ad Agnone dall'Associazione Nazionale Carabinieri un'occasione per consentire ai più giovani di acquisire conoscenze e competenze in materia di tutela dell'ambiente del territorio e della collettività tematiche sempre attuali ma che per gli studenti diventano ancora più importanti la protezione civile si appresta infatti a diventare una vera e propria materia scolastica la conferma è arrivata direttamente da Giuseppe Coduto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile presente al campo scuola organizzato in Alto Molise da quest'anno attraverso un protocollo d'intesa firmato dal Ministro di Istruzione e il Capo Dipartimento Angelo Borrelli la protezione civile diventerà materia scolastica quindi nelle scuole di ogni ordine e grado dall'asilo delle scuole dell'infanzia fino alle scuole superiori attraverso tutti i gradi della scuola ci sarà la possibilità di apprendere le nozioni della conoscenza del rischio le migliori buone pratiche per affrontare le problematiche che possono avvenire attraverso fenomeni naturali o antropici questo sta a significare che forse fra qualche anno avremo un'Italia maggiormente resiliente questo campo scuola è stato caratterizzato anche da un bel esempio di integrazione grazie a un'intesa con il Rotary Club hanno vissuto questa esperienza anche due ragazzi iraniani i loro genitori sono arrivati ad Agnone grazie al progetto Sprar con questa iniziativa l'Associazione Nazionale Carabinieri Protezione Civile di Agnone si appresta a festeggiare nel migliore dei modi i suoi primi 20 anni di attività in Alto Molise e nel resto d'Italia dove ha operato attivamente durante numerose emergenze ha ricordato il direttore del campo Pasqualino De Mattia ad agosto celebreremo i nostri 20 anni di attività è un grandissimo successo fatto di tanti sacrifici e di tanto impegno di tutti e accogliamo anche l'occasione per invitare tutti a festeggiare con noi è un modo nostro per ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicino e anche ringraziare tutti quelli che nel tempo hanno fatto parte di questo nucleo siamo stati presenti attori anche in modo importante in quasi tutte le calamità che ci sono state negli ultimi anni la cosa che ci piace ricordare di più è San Giuliano per la nostra vicinanza anche diciamo geografica a questo posto e anche per il tipo di dramma che abbiamo vissuto tutti quanti il 27 luglio prossimo a Campobasso è previsto il Molise Pride intanto dall'Archigay Molise arriva l'appello alla Regione e al Parlamento affinché approvino al più presto una legge contro l'omotransfobia facciamo appello alle forze politiche della Regione hanno detto gli organizzatori affinché mettano in agenda la proposta di una legge che offra servizi e aiuti stabili e concreti nel tempo monitoreremo hanno concluso l'attuazione del programma della piattaforma Molise Pride sottoscritta dal sindaco di Campobasso Roberto Gravina che attendiamo alla manifestazione seconda serata ieri sul tratturo del Festival del Jazz a Campo di Pietra e a San Giovanni in Galdo con il concerto unica data in Italia del Ghost Note grande successo di pubblico appuntamento a venerdì con Carolina Bubbico il servizio è di Giovanni di Tota una band da paura con Campo di Pietra unica data in Italia in mezzo a Parigi Sofia Londra New York in un tour mondiale ovunque esaurito i Ghost Note hanno rasato l'erba del tratturo dei re con le loro sonorità ricche di contaminazioni e originalissime del resto tutti i componenti del gruppo statunitense vantano collaborazioni con musicisti leggendari come Prince e Herbie Hancock il cui stile trapela nelle sonorità jazz riconducibili alla musica afro rivista in chiave psichedelica ci mettono del loro Mike Ielani Brooks che alterna sax tenore e flauto dai quali tira fuori note che hanno il sapore della protesta e della novità alternandoli al sound tipico del bebop e il percussionista Nat Weirth vero leader dei Ghost Note con i suoi due Grammy Awards a tracciare la linea ritmica di quello che accade sul palco dialogando con Robert Spat Seawright batterista di Herbie Hancock stasera ci sarà molto da divertirsi suoneranno la musica fang ci sarà molto divertimento l'unica data qui e diamoci da fare imperturbabile ma gigantesco con la sua chitarra colorata da Wayne Mononeon Thomas vestito come un ramarro pizzica il basso senza muovere un ciglio ma non è un caso che Prince lo avesse scelto come partner nel suo gruppo retroscena curioso i musicisti hanno chiesto all'organizzazione un'auto per raggiungere Pompei e visitare gli scavi prima di tornare a Campodipietra per poi ripartire destinazione Londra abbiamo cercato sempre di coniugare le essenze musicali all'essenza del territorio per cui abbiamo fatto anche sempre dell'enogastronomia locale uno dei nostri punti forti in questo caso da quest'anno abbiamo unito il territorio la valorizzazione del territorio abbiamo un patrimonio bellissimo questa sera abbiamo già avuto una percezione bellissima parte di questi artisti americani che sono stati letteralmente affascinati da questi luoghi per cui noi continuiamo in questa opera di sensibilizzazione sperando che davvero quel turismo che sta cambiando nelle modalità nelle appartenenze nei modi di essere possa atterrare anche nei nostri territori quello di ieri sera è stato il pezzo forte del festival del jazz organizzato a Campodipietra che poi si sposterà a San Giovanni in Galdo dove la sera del 12 luglio saranno sul palco Spedino Moffa con la sua corna musa e Carolina Bubbico Breast Band sabato invece l'appuntamento con DJ set Pippo Venditti che precede il concerto attesissimo di Nada settimana conclusiva 18, 19 e 20 luglio in piazza Rimembranza a Campodipietra e il 15esimo compleanno di Jazz in Campo e Jazz in Galdo ha già fatto capire a tutti che la musica d'estate abita a Campodipietra e a San Giovanni in Galdo e a Campodipietra si è appena conclusa la nona edizione di Riviviamo il Tratturo due giorni dedicati al territorio e alle sue risorse c'era per noi Valeria Farina è stata l'occasione per valorizzare e rilanciare il territorio e la sua valenza storico-culturale per la nona edizione di Riviviamo il Tratturo l'associazione di Campodipietra che ha organizzato l'evento ha proposto una due giorni incentrata sulle caratteristiche e la storia del territorio locale in particolar modo sul cammino dei Re il cammino sui tratturi e sul tratto Lucera-Castel di Sangro che passa per Campodipietra durante le edizioni di quest'anno è stato presentato un lavoro multimediale realizzato da una troupe di esperti durante un'escursione sul Tratturo fatta giugno scorso abbiamo voluto valorizzare il Tratturo Lucera-Castel di Sangro con l'ideazione di una guida multimediale e cartacea su uno dei tratturi più belli del Molise appunto il Lucera-Castel di Sangro abbiamo ideato due squadre una di camminatori e una tecnico chiamiamola tecnico giornalistica questo materiale è stato già raggruppato e ieri sera si è presentato un trailer su questo primo viaggio durante la giornata conclusiva della nona edizione non sono mancati momenti di fede dedicati alla Madonna del Tratturo con la messa e la processione e i sapori tipici locali caratteristica è stata nel pomeriggio la spiegazione che l'architetto Franco Valente ha tenuto al tempietto italico di San Giovanni Ingaldo qui a Colle rimontato a San Giovanni Ingaldo abbiamo l'opportunità di capire quanto sia stata importante l'architettura soprattutto e la religiosità dei sanniti nella costituzione di una struttura che poi ancora oggi sopravvive il tempietto di San Giovanni nel tempo è stato utilizzato come cava di pietre quindi molti elementi non li troviamo più qui dobbiamo girare per il paese per poterli ritrovare però qui rimane l'anima del sannio La seconda giornata della nona edizione di Riviviamo il Tratturo è coincisa con il secondo dei sette appuntamenti in programma per la quindicesima edizione di Jets in Campo Jets in Galdo un abbinamento voluto dagli organizzatori delle due diverse manifestazioni volto a valorizzare al massimo Campodipietra il territorio e le sue risorse e con Riviviamo il Tratturo a Campodipietra termina anche l'ultima edizione del nostro telegiornale grazie perché scegliete Telemolise buonanotte a Campodipietra